Una pala eolica, un suggestivo smart flower, ovvero un sistema fotovoltaico che insegue il movimento solare in autonomia e una panchina grazie alla quale è possibile ricaricare cellulari e monopattini. E il laboratorio che ha inaugurato oggi l'Istituto Curi Vittorini di Grugliasco, alla presenza della consigliera delegata all'istruzione della città metropolitana Caterina Greco, del sindaco di Grugliasco Emanuele Gauto, di rappresentanti del gruppo territoriale Iran, che è cofinanziatore del progetto, e soprattutto con un folto gruppo di studenti che in questi ultimi due anni hanno progettato e realizzato con i loro insegnanti lo Smart Green Poll. Il progetto è nato già un paio di anni fa, con il precedente dirigente scolastico, naturalmente in relazione a quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 e quindi in particolare sull'aspetto della sostenibilità ambientale, dell'utilizzo di energie rinnovabili. Il progetto è nato all'interno del nostro istituto, in particolare dell'indirizzo CAT, Costruzione Ambiente e Territorio, quelli che una volta si chiamavano corsi per geometri, e ha previsto intanto tutta un'analisi di dati relativi alla logistica, quindi ai luoghi ideali per poter montare non soltanto lo Smart Flower, ma anche la pala eolica che è alla mia destra. Dopo l'analisi dei dati, ma anche tutto l'aspetto dell'analisi della normativa relativa al posizionamento di impianti di questo genere, si è passati al rilievo topografico che è stato fatto appunto dalle classi, dopodiché il progettista, quindi i progettisti, diciamo i docenti che hanno seguito il progetto, hanno sviluppato tutto questo apparato. Ovviamente abbiamo cercato quest'anno di dare una spinta alla realizzazione del progetto e quindi abbiamo ulteriormente finanziato questo progetto per far sì che la pala eolica e soprattutto lo Smart Flower potessero in qualche modo dare anche una motivazione in più alla sostenibilità e all'efficientamento di questo laboratorio, per cui questi apparati illuminano il parcheggio interno della scuola che per varie ragioni purtroppo non era più attivo. È stato fondamentale il lavoro dei docenti all'interno delle classi, i ragazzi che hanno collaborato attivamente, saranno loro che potranno utilizzare la panchina con la quale loro potranno anche caricare i loro cellulari, i monopattini, ma soprattutto sarà importante utilizzare questo progetto a fini statistici, a fini di implementazione proprio di quelle che sono peraltro le competenze trasversali che i nostri ragazzi necessario abbiano alla fine del loro percorso. È un progetto assolutamente interessante, speriamo che sia l'inizio per noi, ma anche un esempio da replicare in altre istituzioni scolastiche.